Quando un gatto miagola, è obbligatorio rispondere... Che cosa c'è? Che cosa c'è? Che cosa c'è? Quando per troppi giorni non si cade su qualche pallina o topolino, spostare il divano e recuperare tutti i giochi scomparsi. Mai sottovalutare la lettiera. È importante per la sua igiene e per il tuo naso. E ricorda che è meglio che sia pratica e di qualità perché dovrai pulirla tu. Se il gatto stranamente dorme sopra le tue gambe, mai, e ripeto, mai spostarlo. Si è sdraiata sopra di me. Se ne andrà lui, prima o poi. Oh, finalmente si è tolta. Ci è voluto poco. Portare con orgoglio i graffi su mani, braccia e schiena. L'aspirapolvere va eliminata. Il phon va eliminato. Ogni oggetto rumoroso va eliminato. Tenere a portata oggetti e fonti di calore, come modem, trasformatori o computer. E infine ricorda, addomesticare un gatto è impossibile. Addomesticare un umano? No. E tu, quali comandamenti rispetti? Scrivilo nei commenti. Se anche tu ami gatti, condividi il video e tagga un amico gattaro. E se non vuoi perderti neanche un video sui gatti, iscriviti mettendo mi piace alla pagina.